buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi obiettivo della giornata andare a comprare le biciclette abbiamo una shopping card da decathlon quindi siamo diretti lì dovete sapere che voi che i bambini non sanno andare in bicicletta nel senso che proprio non ci hanno mai provato non le hanno mai avute hanno avuto dei tricicli sapete quelli in plastica proprio da piccolini ma non ci sono mai andati perché proprio non gli piaceva quindi proviamo con le biciclette siamo andati a vederle tempo fa tempo fa qualche giorno fa per guardare un po i colori vedere se piacevano a loro o meno e ne abbiamo trovati un paio che secondo noi possono andar bene quindi adesso andiamo lì andiamo a provarle andiamo a vedere se insomma se ci sono ancora e le acquistiamo quindi dopo la parte più bella sarà vedere se riescono ad andarci e soprattutto come ci vanno per cui rimanete rimanete con noi e a più tardi a a Grazie a tutti. Allora Camilla che colore la vuoi tu l'amici? Non ho capito, girati e dimmelo che non ho capito. Che colore la vuoi? Fucsia, sei sicura? Guarda che ci sono tanti colori eh. Che carini, guarda, sono tutte belle colorate. Tu la vuoi Fucsia? Sì. Siamo sicuri, sicuri? Fucsia, quella lì? Sì. Ok, allora prendiamo quella? Sì. Ok. Maurizio, vieni qui amore. Sì amore, adesso la prendiamo. Maurizio, tu devi scegliere, scegli il colore che ti piace. Verde, ti piace? Sì. Sicuro? Guarda, Mauri, guarda. Guarda, c'è anche nera e arancione. C'è questa qua. Nera e blu. Azzurro, blu o verde? Quale vuoi? Camilla, Fucsia, siamo sicuri. Adesso Maurizio, allora Maurizio prima in macchina aveva detto blu, adesso dice verde. adesso un attimo che ci schiariamo le idee. Guarda, guarda, guardala in alto. C'è blu, verde. Quella lì o quella lì? Quella lì o quella lì? Una di cui ce l'ha fatta le bolle. Blu? Blu? No, indeciso. Quella che vuoi tu amore. Adesso te la faccio vedere da vicino, dai. Allora, guarda, guarda, guarda. Grazie a tutti. Rieccoci in auto. Ci abbiamo messo più del previsto, in realtà, perché Maurizio era veramente indeciso sul colore, quindi alla fine, vabbè, siamo riusciti a convincerlo, a convincere, in realtà, del colore che aveva scelto l'altra volta, perché oggi aveva cambiato idea. Comunque, sta di fatto che alla fine ce l'abbiamo fatta, ce le abbiamo in macchina, le abbiamo acquistate, per cui adesso, noi adesso andiamo a casa, sistemiamo tutto con calma e poi magari nel pomeriggio prendiamo le bici, le portiamo, le portiamo al parco. Adesso vediamo se riescono a usarle, soprattutto. Volevo prima vedere se nel giardino dietro se riescono ad andarci, nel senso proprio che capiscano, voglio che prima che andiamo fuori con quelle, capiscano un po' il meccanismo della pedalata, perché per loro che non le hanno mai provate è una cosa, insomma, da imparare. Per cui proviamo prima nel giardino di casa, che lì siamo sicuri, e poi vediamo se va tutto bene lì, poi le portiamo fuori, per cui, vabbè, vi aggiorno dopo. Per cui, vabbè, vi aggiorno dopo. Per cui, vabbè, vi aggiorno dopo. È grande, 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 la bici. Allora, rieccoci, siamo davanti a casa, stiamo uscendo, stiamo facendo gli ultimi ritocchi alla bici e andiamo a portare i bimbi con le bici al parco. In realtà, non è che l'esperimento dietro in giardino sia andato benissimo, perché ancora non hanno capito come si fa, oppure le bici sono un po', non lo so, non hanno capito di mettere più forza per farle pedalare. Adesso vediamo comunque, le portiamo al parco, vediamo cosa succede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.